Con il recital Roma, l'amore e le nuvole con Edoardo Siravo, con oltre 15 spettacoli da ottobre a oggi, si conclude la stagione del Teatro dei 99, venerdì 23 marzo alle ore 21 al Teatro dei 99 all'Aquila. Edoardo Siravo del recital Roma, l'amore e le nuvole sarà accompagnato dal compositore e regista abruzzese Davide Cavuti, con la partecipazione in scena anche del violinista Antonio Scolletta e degli artisti del Teatro dei 99, Leonardo Bizzarri, Sandro Argentieri, Melissa Paparusso, Eliana Di Gennaro e Catiana Pacella. La stagione del Teatro dei 99 ha offerto spettacoli per tutti i gusti e anche grandi nomi. Il Teatro dei 99 dopo questa stagione si conferma come una realtà in continua evoluzione e un luogo di aggregazione sociale e culturale per la città dell'Aquila. Nell'ambito della serata conclusiva sarà presentato il progetto Vite 2016, il disco pubblicato con testi e musiche originali firmati da Davide Cavuti. La scelta del capoluogo abruzzese non è stata casuale perché questo progetto nasce con l'intento di raccogliere fondi per supportare un progetto artistico tra la città dell'Aquila e le zone colpite dal sisma dell'Italia centrale del 2016. Vite ha ricevuto la collaborazione del Teatro dei 99 e del suo direttore Loredana Enrico ed il ricavato delle vendite sarà interamente donato ai progetti culturali che legano i due crateri. Si possono mescolare